Edificata tra il 200 e il 300, la Basilica dei Santi Bonifacio ed Alessio a Roma era inizialmente dedicata a San Bonifacio, martire cristiano giunto alla conversione dopo una vita di agi e dissolutezze. Nel 986 la chiesa fu intitolata anche a Sant'Alessio, che secondo una leggenda del 400, era un giovane patrizio romano fuggito in Oriente per sottrarsi a un matrimonio combinato. Tornato a Roma molti anni dopo, non venne riconosciuto dai suoi parenti e fu costretto a vivere da mendicante nel sottoscala del suo palazzo il resto dei suoi giorni. Sempre nel 1217 la chiesa fu ricostruita e le reliquie dei due Santi furono collocate sotto l'altare maggiore. L'aspetto attuale della Basilica si deve ai grandi lavori avviati prima dell'anno giubilare del 1750. Ulteriori interventi furono effettuati tra il 1852 e il 1860 dai padri somaschi ai quali da Papa Pio IX avevano avuto in dono la Basilica. La facciata della chiesa neo cinquecentesca e alla sua destra si trova il campanile duecentesco a cinque ordini con doppie bifore. Il bellissimo chiostro da cui si gode di una magnifica vista sulla Basilica di San Pietro in Vaticano è decorato da colonne in granito provenienti da antichi edifici. Alla Basilica si accede attraverso un quadriportico medievale. L'interno è a tre navate divise da pilastri ornati da paraste scalanalate e capitelli corinzi. Addossate alla facciata interna si trova custodita entro una grande teca di vetro sostenuta da angeli e putti la scala di legno sotto cui sarebbe vissuto Sant'Alessio. Dal presbiterio poi si entra nella cripta romanica che conserva le reliquie di Sant'Ommaso Becket, arcivescovo di Canterbury e grande amico di re Enrico II d'Inghilterra. Nel 1162 proprio l'amicizia con il potente sovrano gli valse la nomina ad arcivescovo di Canterbury e primate d'Inghilterra, in carico che però gli provocò non pochi guai. Tommaso, uomo incorruttibile e protettore della chiesa, infatti si rifiutò di piegarsi ai voleri del re che divenne il suo più acerrimo nemico e per salvarsi dovette rifugiarsi da prima in Francia poi a Roma. Nella cripta è anche conservata una colonna che sarebbe quella a cui fu legato San Sebastiano al momento del martirio.